a quanto? 45 45 presto dai 45 dai 45 dai è stato molto ok due pozzone bella pitch non è andato a piccarlo bravo pitch, quasi ace di pitch manteniamo attenzione battuglio mid dai battuglio mid ma mi sente? mi sentite? 1 c'è già sul punto è già avanzato è ritornato indietro 2 mid 2 shot eh va beh 3 3 figlio di puttana dietro il portone potessi scaricare il tratto in mid sono avanzati sono in due sono in due stalla si è chiamata 30 volte short cazzo non c'era nessuna scelta si è chiamata 30 volte short 9 4 5 5 5 C'è un po' qui l'ho